Ciao a tutti e a tutti, sono Francesca Michelin e il primo luglio uscirà Bonsoir, il mio nuovo singolo che anticipa quella che è un po' la mia nuova era. Bonsoir perché Bonsoir è appunto un comeback, come dire buonasera, eccomi, sono tornata da voi per nuova musica. La canzone per me è molto speciale perché è ambientata attorno a questo fiume, io sono nata in una città con un fiume e c'è questa frase nel testo molto importante che dice tutto è cambiato ma in fondo è uguale perché sono passati dieci anni dall'inizio di questa mia avventura musicale adesso siamo ancora qui e festeggeremo questi dieci anni nei teatri, quindi il 25 febbraio parte il mio tour che toccherà ovviamente anche Roma e Milano rispettivamente primo marzo e 20 marzo, ci vediamo lì.